Io mi chiamo Luca Baron, sono un dottorando di scienze giuridiche del curriculum dedicato diritto pubblico e sistema penale e mi occupo della materia degli abusi di mercato. Si tratta di una materia che in effetti rappresenta un osservatorio privilegiato su uno scenario più ampio che è quello delle trasformazioni che caratterizzano il diritto penale moderno. Quello degli abusi di mercato non rappresenta solo la frangia più avanzata del processo di europeizzazione del diritto penale, ma costituisce altresì un banco di prove estremamente significativo per poter analizzare e saggiare delle soluzioni sanzionatorie nuove, dove la distinzione tra sanzioni penali e sanzioni amministrative tende a sfumare nella più generale concetto e categoria di diritto punitivo. Ecco, queste altre considerazioni si pongono a fondamento del mio progetto di ricerca che ha un andamento bifasico. Prendendo le mosse, cioè dallo specifica analisi della normativa in materia di market abuse, mira poi a svilupparsi in una prospettiva grandangolare, cioè esaminando i temi dell'europeizzazione del diritto penale, l'individuazione di che cosa sia materia penale, per soffermarsi poi anche sull'analisi di quali sono i rischi insiti in un uso simbolico, per non dire populista, del sistema penale.